Bentornati a questo corso di filosofia online su YouTube. E adesso, come promesso, dopo una ricognizione a volo d'uccello sul pensiero del nolano, di Giordano Bruno, sempre manchevole ovviamente, sempre deficitaria, perché quando si intraprende una ricognizione del pensiero di figure, di primo piano, del pensiero occidentale, mondiale, è chiaro che qualcosa si perde sempre, soprattutto nel pensiero magmatico e articolatissimo di una figura di prima grandezza come quella appunto di Giordano Bruno. Allora, in questo contributo video leggeremo uno dei passi fondamentali del secondo dialogo della cabala del cavallo Pegaseo, dai dialoghi filosofici italiani, qui nella versione del 2000 con un saggio introduttivo di Ciliberto. e il brano è tratto appunto da Biblioteca Laica al Pensiero al Libro dell'Italia Moderna, link in descrizione per il libro. Siamo nel 1585, Bruno è a Londra e dà alle stampe questo cabala del cavallo Pegaseo unito all'asino cillenico. Bruno ha 37 anni, sta per venire via dall'Inghilterra e tornerà poi in Francia e poi in Germania, fino a poi essere richiamato, fare l'errore di valutazione e essere attirato da Mocenigo a Venezia. Di cosa si parla in questo brano che andiamo a testare a leggere? Ci sono appunto il concetto della reincarnazione della metempsicosi, della metasomatosi di Bruno, metasomatosi pilastro della nuova filosofia bruniana, il concetto appunto della vita materia infinita, quest'unico principio ontologico, una materia animata da cui si generano tutti gli enti. E poi il terzo pilastro, appunto la certezza della ruota vicissitudinale delle anime di vita e di morte. È in forma di dialogo, qui i personaggi sono due, sono Sebasto che funge da stimolatore della conversazione e poi c'è l'asino Onorio, un asino che parla. Questo Onorio è il doppio parodistico di Giordano Bruno, quindi c'è un Firouge che lega Onorio Giordano Bruno, cioè il personaggio parlante e l'autore del dialogo, li lega e li connette anche alla figura del Mercurio. Bruno, l'abbiamo detto anche nei video precedenti, ha una grandissima coscienza di sé come Mercurio, cioè inviato degli dèi sulla Terra per mettere in collegamento il mondo materiale e il mondo spirituale, il mondo divino e il mondo umano, e per appunto proporre questa nuova filosofia che sia una filosofia di riforma morale, etica e politica. Bruno vive il periodo tremendo delle lotte di religione, viene scomunicato da tutte e tre le chiese, la chiesa cattolica, la chiesa calvinista, la chiesa luterana, e quindi ha questo sentimento di sé, questo senso profondissimo di sé come un Mercurio, come un inviato degli dèi che deve venire un profeta che è venuto, è stato mandato sulla Terra per comunicare una buona novella, cioè una riforma dei costumi, una riforma della politica, una riforma della religione, una riforma etica. Questo è un punto, come dire, non negoziabile per capire il pensiero di Giordano Bruno. Se non si tengono fermi questi punti, cioè questo fatto che Bruno, anche con questi dialoghi londinesi, lo spaccio della bestia trionfante, il cavallo Pegaseo e gli eroici furori, ha appunto intenzioni di riforma, anche di riformare i già riformati che per lui erano assolutamente lo spaccio della bestia trionfante, cioè appunto il trionfo, le religioni riformate erano il trionfo appunto dell'ignoranza con questo tema scabroso, scandaloso della predestinazione. Piccolo cappello introduttivo per andare a capire poi nella lettura. Quindi, Onorio che parla qui è un asino che dopo essere morto si è reincarnato nuovamente in un asino e, non essendosi abbeverato al fiume Lete, reca comunque memoria della sua precedente vita. Adesso vedremo, quando morirà l'asino tenterà di, gli faranno bere la parca, gli farà bere l'acqua di Lete, ma lui si bagnerà solamente le labbra, ingannando, ingannando coloro che sono predisposti alla ruota di vita e di morte, di nascita e di morte e con questo espediente riuscirà a reincarnarsi però ricordando la vita precedente. Partiamo, Sebasto, e tu ti ricordi di aver portato la Soma, cioè ti ricordi di aver portato dei pesi in quanto asino, Onorio, la Soma, la Carga, e tirato il manganello, che è una macchina di grandi dimensioni, una specie di catapulta, qualche volta fui prima in servigio ad un ortolano, aggiuntandolo a portare l'ettame dalla città di Tebe all'orto vicino alle mura e da riportare cavoli, lattuche, cipolle, cocumeri, pastinache, ravanelli ed altre cose simili dall'orto alla cittade. Prima ho lavorato per un ortolano che mi faceva portare il letame e altri ortaggi dalla città di Tebe all'orto e dall'orto alla città di Tebe. Poi dice, appresso un carbonaio che mi comprò da quello ed il qual pochissimi giorni mi ritenne vivo. e poi ho lavorato da un carbonaio ma da questo carbonaio sono durato poco in vita. Ho lavorato per il carbonaio ma sono durato poco. Sebasto, com'è possibile che abbi memoria di questo? Come fai a ricordarti la tua vita precedente? E questa attenzione è una domanda cardine di Sebasto, stimolatore del dialogo. E qui Onorio parte con una tirata. È lunga, cercheremo di capire tutto per quanto ci può essere possibile. Ricordiamo che Onorio è un doppio parodistico letterario di Giordano Bruno. Quello che dice è quello che pensa anche Bruno. Ti dirò poi Pascendo io sopra quindi Sebastro ti ha chiesto com'è possibile che hai memoria della vita precedente? Te lo dico. Pascendo io sopra certa precipitosa e sassosa ripa sono su un dirubo tratto dall'avidità da addentare un cardo sono un asino mangio il cardo che era cresciuto alquanto più giù verso il precipizio che io senza periglio potesse stendere il collo volsi al dispetto d'ogni rimorso di coscienza ed istinto di ragione naturale più del dovero rapengarvi e caddi dall'alta rupe ecco come sono morto. onde il mio signor si accorse il carbonaio di avermi comprato per gli corvi il carbonaio poraccio capisce di averlo comprato per essere pasto per corvi perché morto quasi subito io così io morto io asino morto privo dell'ergastulo corporeo cioè privo del carcere del corpo qui i riferimenti platonici no soma sema il pondus il peso del corpo che ingabbia l'anima privo di questo il caso dove venni vagante spirito senza membra diventato uno spirito che vaga senza corpo e venni a considerare come io secondo la spiritual sostanza non ero differente in geno né in specie da tutti gli altri spiriti che dalla dissoluzione dei altri animali e composti corpi trasmigravano cosa sta dicendo che questa esperienza di onore ha una duplice funzione intanto testimoniando che una volta morto si è reso conto che la sostanza spirituale è una come una è quella materiale e qui è tematizzata questo principio è tematizzata anche nel della causa un altro dialogo brugnano di carattere cosmologico e si incentra appunto sul principio ontologico della vita materia infinita che tutto genera questa vita materia infinita genera tutto quindi non c'è differenza fra animali uomini oggetti no perché siamo tutti figli di questa vita materia infinita e quindi non siamo differenti uomini animali corpi sono ontologicamente uguali in quanto enti prodotto da questo principio ontologico principale per bruno che è la vita materia infinita e viddi continuò norio come la parca la parca è la dea che presiede le nascite i destini di vita a morte non solamente nel geno della materia corporale fa indifferente il corpo dell'uomo da quello dell'asino asino e uomo sono uguali dal punto di vista della materia corporale ed il corpo degli animali dal corpo di cose stimate senza anima ma ancora nel geno della materia spirituale questa sostanza spirituale e materiale che coincidono fa rimanere indifferente indifferente cioè uguali l'anima asinina e l'umana e l'anima che costituisce gli detti animali da quella che si trova in tutte le cose come tutti gli umori sono uno umore in sostanza tutte le parti aeree sono un aere in sostanza tutti gli spiriti sono dall'anfitre di uno spirito e da quello ritornano tutti quindi se per Aristotele Bruno critica radicalmente Aristotele se per Aristotele la forma coincide con l'atto e la materia coincide con la potenza nella filosofia bruniana per Bruno tali tutte queste distinzioni aristoteliche vengono a cadere in nome ripetiamo ribadiamo fino allo svenimento di un unico principio che è vita materia infinita vita materia animata forma materia atto potenza anima corpo in Bruno sono la stessa cosa e qui continua Onorio or dopo che qualche tempo fui trattenuto in cotal stato cioè di anima che vaga nella vicissitudine qui Bruno cita Virgilio l'Eneide il sesto libro dell'Eneide quella dell'ascesa ad Inferos Enea chiede alla Sibilla di fargli la guida nel regno dell'oltretomba e dice Un Dio li chiama in un gran numero al fiume Lete perché i memori cioè senza memoria tornino a vedere le regioni al di sotto del cielo il mondo sublunare e comincino a desiderare e di ritornare a vivere nei corpi c'è questo processo per cui la parca che è questa dea che presiede la ruota di vita e morte chiama poi a un certo punto tutti a bere quest'acqua di Lete non l'acqua Lete quella del fiume Lete che l'acqua Lete prende da questo fiume Lete e diventare dimenticare quello che si è visto prima di reincarnarsi allora e qui Onorio racconta a Sebastro che lui ha fatto ha avuto un moto di ingegno perché fa finta un espediente usa un espediente fa finta di bere si bagna le labbra la parca pensa che abbia bevuto e lo fa reincarnare ma lui ha bevuto non ha bevuto e quindi non ha dimenticato le altre anime che bevono invece dimenticano la dimenticano le vite precedenti allora scampando io da fortunati campi senza sorbir dell'onde del rapido Lete tra quella moltitudine di cui ero principale guida Mercurio e qua nella mitologia greca Mercurio è colui che conduce le anime dei morti agli inferi io attenzione qua io Onorio Asino morto ma ora anima feci finta di bevere di quell'umore in compagnia degli altri feci finta di bere l'acqua di Lete ma non feci altro che accostarvi e toccarvi con le labbra affinché venessero ingannati gli soprastanti a quali poteva stare di vedermi la bocca e il mento bagnato ma hanno visto il mento bagnato hanno fatto sì sì Onorio ha bevuto può reincarnarsi presi il cammino verso l'aria più puro per la porta cornea porta cornea o eburnea sono le varie porte del sonno e lasciandomi alle spalle e sotto i piedi il profondo vengi a ritrovarmi nel Parnasio Parnasio è il monte sacra d'Apollo sacra di nove muse sopra Delfi Monte Greco il quale non è favola che per il suo fonte caballino sia cosa dal padre Apolline consecrata alle muse e sue figlie e questo l'abbiamo già detto ivi sul Parnasio per forza ed ordine del fato tornai ad essere d'asino mi sono reincarnato come asino asino ero prima asino sono adesso figura dell'asino è centrale in bruno ma senza perdere le specie intelligibili senza dimenticare delle quali non rimase vedo e casso il spirito animale per forza della cui virtute muscirno dall'uno e dall'altro la forma e sostanza dei due ali a un certo punto mi spuntano queste due ali sufficientissime ad innalzare insieme agli astri il mio corporeo pondo quindi cosa è successo qua Onorio fa tre tappe prima la esperisce la metempsicosi no esperisce l'esperienza della metempsicosi la trasmigrazione delle anime la seconda tappa a memoria delle vite precedenti e adesso viene assunto in cielo una sorta di di ascensione al paradiso in un certo senso ok apparvi e fui nomato non asino già semplicemente ma o asino volante ovvero cavallo pegaseo cabala del cavallo pegaseo si chiama questo 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 dialogo indi fui fatto exequitor de molti ordini del provvido giove quindi vedete prima ho lavorato ho lavorato da un ortolano ho lavorato da un carbonaio adesso lavoro per giove poi lavoro come dice la mitologia per bellorofonte poi passai molte cenebre ed onoratissime fortune ed alla fine io onorio fui assunto in cielo circa gli confini d'Andromeda ed il cigno d'un canto gli pesci d'acquario dall'altro qui il cigno non è nominato a caso perché per Bruno Bruno in carcere a Venezia sta parlando con i suoi concarcerati amici di prigionia e gli raccontava queste cose di cui lui era fermamente convinto non erano oppose lui credeva veramente Bruno Giordano Bruno anche lui credeva fermamente di essere stato un cigno se lo ricordava alla perfezione diceva ovviamente gli altri carcerati lo deridevano e lui rosicava tantissimo perché era molto serio su questo aspetto però diciamo che appunto lui ricordava mette il cigno anche qua perché ricordava perfettamente di essere stato un cigno in una vita precedente quindi no vedete Onorio che non beve che non beve l'acqua di Lete è equiparabile a Bruno che ha memoria della vita delle vite precedenti e qui si rinviene se basto che dice di grazia rispondetemi alquanto prima che mi facciate intendere queste cose più per il minuto dunque Onorio te mi stai dicendo per esperienze in memoria del fatto estimate vera l'opinione dei filosofi pitagorici druidi saduchimi ed altri simili ma anche Platone circa quella continua metamfisicosi metampsicosi cioè trasformazione o transcorporazione metasomatosi di tutte le anime quindi qui mi stai dicendo ci stai dicendo Onorio che tu credi a quello che dicono i pitagorici che c'è un dio infinito spirito che vivifica tutto e che c'è veramente la metempsicosi la trasmigrazione delle anime qui Bruno cita le metamorfosi di Ovidio lo spirito vaga dall'uno all'altro e viceversa impossessandosi del corpo che capita e dagli animali passa in corpi umani da noi negli animali senza mai deperire nel tempo spirito seque feris umana incorpora transi tinque feras noster nectempore deperit ullo risponde Onorio messer si così e certissimamente penso esattamente come la pensava Pitagora come la pensavano i druidi come la pensavano i statuchini Platone e compagnia bella e così la pensa anche Bruno se basto dunque costantemente vuoi che non sia altro in sostanza l'anima dell'uomo è quella delle bestie quindi l'anima delle uomini e delle bestie è indifferente è uguale e non differiscano se non in figurazione cioè sono uguali ma differiscono solamente per figurazione per complessione per manifestazione Onorio quella dell'uomo è medesima in essenza specifica e generica con quella delle mosche attenzione questo è un tema bruniano molto forte quella della indistinzione fra l'anima il corpo degli uomini e l'anima degli animali perché appunto tutti i figli di questa vita materia infinita che solo quella produce tutto quindi l'uomo l'anima dell'uomo è uguale all'anima delle mosche all'anima delle ostriche marine all'anima delle piante di qualsivoglia cosa che si trove animata o abbia anima come non è corpo che non abbia più o meno vivace e perfettamente comunicazione di spirito in se stesso Or co tal spirito secondo il fato o providenza quello che volete voi ordine fortuna questo non mi interessa viene aggiungersi ora ad una specie di corpo ora ad un'altra signori c'è la metempsicosi e secondo la ragione della diversità di complessioni e membri viene ad avere diversi gradi e perfezioni di ingegno ed operazioni la onde quel spirito o anima che era nella ragna nel ragno e vi avea quell'industria e quegli artigli e membra in tal numero quantità e forma medesimo gionto alla prolificazione umana acquista altra intelligenza altri strumenti altre attitudini ed altri atti quando si incarna come ragno è ragno quando si incarna come uomo prende altri strumenti altre attitudini altri atti continua Onorio aggiungo a questo che se fosse possibile o infatto si trovasse che di un serpente il capo si formasse e stornasse qua c'è una metamorfosi in figura di una testa umana un serpente che si trasforma in uomo ed il busto crescesse in tanta quantità quanta può contenersi nell'ampiezza di cota al specie se gli allargasse la lingua ampiassero le spalle se gli ramificassero le braccia e le mani ed al luogo dove è terminata coda andassero ad ingeminarsi le gambe gemmassero le gambe intenderebbe apparire spirerebbe quel serpente parlerebbe quel serpente opererebbe e camminerebbe non altrimenti che l'uomo perché non sarebbe altro che uomo assoluta indifferenza fra animali e uomini tutti figli della vita materia infinita come per il contrario qui abbiamo detto che il serpente diventa uomo ma anche se l'uomo diventasse serpente non sarebbe altro che serpente se veniste a contraere come dentro un ceppo le braccia le gambe e l'ossa tutte concorressero alla formazione di una spina si incolubrasse il colmo del serpente incolubrasse si inserpentasse si inserpentasse serpentiforme e prendesse tutte quelle figure dei membri d'abiti di complessioni allora arebbe più o men vivace in genio il luogo di parlare sibilarebbe il luogo di camminare serperebbe il luogo deficarsi palaggio si caperebbe un pertugio invece di farsi la casa si ficcherebbe dentro una tana e non riconverrebbe la stanza ma la buca e come già era sotto quelle ora è sotto queste membre strumenti potenze tatti come dal medesimo artefice diversamente inebriato dalla contrazione di materia e da diversi organi armato appaiono esercizi di diverso ingegno e pendono esecuzioni diverse adesso serpente l'uomo fa altre cose rispetto all'uomo perché è serpente quindi possete capire esser possibile che molti animali possono aver più ingegno e molto maggior lume di intelletto che l'uomo come non è burla quel che proferì Mosè del Serpe quello che disse nel Genesi 3.1 Mosè del serpente il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche è il Genesi qui cita il Genesi Mosè del serpe che nominò sapientissimo tra tutte le altre bestie della terra ma per penuria di strumenti gli viene ad essere inferiore come quello per ricchezza e dono dei medesimi gli è tanto superiore però qui Bruno sta sviluppando il discorso dell'ingegno e della mano ma mentre nello spaccio della bestia trionfante vivifica sia l'ingegno sia l'intelletto che la mano qui radicalizza il discorso dicendo che l'uomo è potente rispetto al più potente rispetto al serpente perché ha questa la mano pollice opponibile chiamatela come vi pare dunque rispetto il serpente non può fare quello che fa l'uomo perché l'uomo ha la mano e che ciò sia la verità considera un po' quel sottile ed esamina se basta esamina entra a te stesso quel che sarebbe sepposto che l'uomo avesse al doppio di ingegno che non ave e l'intelletto agente attenzione termine aristotelico poi molto commentato nella scolastica medievale e l'intelletto agente gli splendesse tanto più chiaro che non gli splende ricordiamo che l'intelletto agente citato nel terzo libro del Deanima di Aristotele ma anche nel dodicesimo libro della metafisica di Aristotele nel Deanima appunto si parla di intelletto passivo che riceve le forme intelligibili e l'intelletto attivo invece che trasforma questa conoscenza da potenziale da passiva a atto attiva dalla potenza all'atto ok poi successivamente Aristotele identificherà in questo intelletto agente anche il motore immobile e Dio quindi rimanendogli tutto l'altro nel suo ordinario intero dimmi dove potrebbe impune impunemente essere la conversazione degli uomini come potrebbero istituirsi adurare le famiglie e tunioni di costoro parimenti o più che dei cavalli cervi porci senza esserno devorati da innumerevoli specie di bestie per essere in tal maniera soggetti a maggiore e più certa ruina e adesso capiamo adesso vi spiego e per conseguenza dove sarebbero le istituzioni di dottrine le invenzioni delle discipline la matematica l'astrologia le congregazioni dei cittadini cioè le città le leggi le strutture degli edifici e fanno l'uomo trionfator veramente invitto sopra le altre specie l'uomo comunque trionfa sulle altre specie dal punto di vista ontologico uomo e bestia sono la stessa cosa ferire carne d'uomo ferire carne di bestia è assolutamente la stessa cosa perché si ferisce questa vita materia infinita questa vita animata che tutto pervade panteisticamente secondo il pensiero appunto brugnano un pensiero radicalmente anti-riformato anti-cristiano anti-inglese qui Bruno è inferocito anche con i dottori aristotelici di Oxford questa cavalla del cavallo pegaseo un'opera di satira morale pericolosissima infatti poi dopo dopo spaccio della bestia eroici furori cavalla del cavallo pegaseo e asino cilenico Bruno come dire affronterà altre argomentazioni però non scenderà più direttamente sul terreno di queste satire appunto morali perché appunto pericolosissime se lette da chi detiene la morale e cioè il papa cattolico Lutero in Germania e gli anglicani inglesi quindi e qui concludiamo tema fondamentale della mano di Giordano Bruno l'uomo trionfa tutto questo se oculatamente guardi dice Onorio a Sebasto concludendo si riferisce non tanto principalmente al dettato dell'ingegno che aveva tanto sannato nello spazio quanto a quello della mano organo degli organi se l'uomo trionfa sugli animali perché ha le dottrine le menzioni e le discipline le congregazioni cittadini le città le leggi le strutture gli edifici e via citando trionfa non perché è ontologicamente superiore alle bestie ma perché per sua complessione per sua formazione ha rispetto al serpente agli altri animali appunto la possibilità della mano e questa mano è può essere ferra o più ma questa mano è appunto l'organo dice Giordano Bruno degli organi questo è quello che ci dice Onorio che è il pretesto che utilizza Bruno per poterci comunicare queste queste verità ma con questo concludiamo Bruno ribadisce anche con questa esperienza di Onorio che è stata anche la sua esperienza ribadisce sempre di più lo stretto legame che c'è fra la filosofia e l'autobiografia la verità ci dice Bruno può essere raggiunta solo attraverso l'esperienza personale di te fabula narratur di te